C'era molta attesa per la convocazione odierna del Consiglio Comunale che avrebbe dovuto trattare l'unico ordine del giorno, quello relativo alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Floridia Gianni Limoli. Questi però ha dribblato e anticipato i tempi comunicando questa mattina con una lettera consegnata al segretario generale del Comune le proprie dimissioni. Finisce così l'esperienza amministrativa dell'Aggiunta Limoli, iniziata due anni e quattro mesi addietro con l'elezione al ballottaggio sull'uscente Scalorino. Sono stati due anni tribolazioni, conflizione anche all'interno e soprattutto della maggioranza. Inutili si sono dimostrate le azioni di coinvolgimento dei movimenti e dei partiti per rilanciare l'attività amministrativa. La situazione è precipitata negli ultimi mesi con la maggioranza che è andata via via sfaldandosi fino alla presentazione della mozione di sfiducia. Prevedendo che i numeri non fossero più dalla sua parte, il sindaco Limoli ha preferito evitare quello che avrebbe potuto essere un voto scontato. Nelle ultime ore si è trincerato nel silenzio in attesa di sciogliere la riserva, non prima di aver tentato di convincere qualche consigliere comunale a fare un passo indietro e a non votare in aula la sfiducia. Ma le avvisaglie di una caporetto c'erano tutte, annunciate ulteriormente sabato dall'edimissione dell'assessore alla Polizia Municipale Fabiana Gallo, mentre un altro assessore Davide Gozzo ha annunciato che questa mattina avrebbe rassegnato il proprio mandato. Un quadro per nulla confortante ha suggerito al sindaco Limoli di desistere e questa mattina ha deciso di staccare la spina alla sua esperienza amministrativa. Si va in aula quindi, ma solo per prendere atto della dimissione di Limoli e di avviare la procedura per il commissariamento del Comune per la gestione ordinaria dell'amministrazione pubblica fino all'indizione delle nuove elezioni, molto probabilmente in primavera.